Salve a tutti amici, video velocissimo pomeridiano, ovvero dove faccio l'estrazione delle chiavi che vi ho promesso nel video dove ho parlato di GameHug e di tutto quello che offre quindi se vi siete persi il video andatevelo a guardare perché comunque è un sito molto molto interessante Allora, sono 5 chiavi, la prima chiave abbiamo detto che era Minecraft per PC seconda, terza, quarta erano delle chiavi per Steam, chiavi casuali quindi abbiamo una serie di partecipanti, vediamo un po', sono in totale 360 ragazzi, siete stati in 360, grandissimi allora, quindi che cosa facciamo? Andiamo a fare l'estrazione con random.org nel momento in cui clicco su randomize questa lista sarà riordinata a caso quindi i primi 5 vinceranno, il primo ovviamente vincerà Minecraft, gli altri vinceranno la chiave di Steam quindi non perdiamo altro tempo perché sono sicuro che voi non aspettate altro che vedere il vincitore quindi clicchiamo su randomize, 3, ovviamente ci vorrà un pochino di tempo oh, subito, perfetto allora, ecco i vincitori ragazzi, i primi 5 ovviamente il primo si aggiudica ovviamente Minecraft, quindi Alessandro1808 complimenti, hai vinto Minecraft il secondo, Leopard63, hai vinto la Steam Key SimoVas9, hai vinto la Steam Key e PaoloOperan, hai vinto la Steam Key e anche ovviamente JKL06White, hai vinto la Steam Key perfetto, quindi, cari miei vincitori, contattatemi su GameMag quindi mandatemi un messaggio privato, fatevi sentire così vi manderò la Key direttamente lì mi raccomando, continuate a giocare su GameMag così guadagnerete tantissime pietre all'anima e potrete riscattare giochi completi quindi vi ricordo, se vi siete persi i video, andatela a guardare perché è un sito molto interessante quindi vi lascio subito, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per oggi è tutto, al prossimo video Grazie a tutti